29 agosto 1939 come ogni volta che riprendo in mano il diario dopo tanto tempo lo faccio con una certa preoccupazione sembra che non sia affatto l'unico ufficiale ad aver ricevuto l'ordine urgente di interrompere le vacanze per partecipare a un'esercitazione su grande scala nei pressi della frontiera polacca temo sia solo un ridicolo sotterfugio con la tensione internazionale che cresce di giorno in giorno sono in pochi a dubitare che il nostro futuro non si trovi dall'altra parte della frontiera polacca non faccio che pensarci come andrà a finire dopo la grande guerra il sentimento di umiliazione è stato uno dei motori che ci hanno aiutato a fare di nuovo di un paese devastato una potenza mondiale ho paura però che questa volta ci stiamo allontanando troppo in ogni caso sono solo dubbi retorici so bene quali sono i miei doveri e qual è il mio posto e sospetto che domani stesso di prima mattina avrò occasione di dimostrarlo grazie a tutti Grazie per la visione Guarda laggiù, c'è l'aerodromo, sembra molto tranquillo Ho sentito che Hans von Groebel è stato incaricato di far loro visita Meglio allontanarci dalla zona, non voglio che ci scoprano Hai ragione, non vorremmo rovinargli la sorpresa Sì, allontaniamoci, avremo occasione di vederlo da vicino quando sarà nostro Affermativo, siamo nelle vicinanze dell'aerodromo Procediamo, avanti! Aspettiamo Otini Sì? Sì? Chi è perito? Va bene! Avanzate! Avanti, continuiamo ad avanzare! Avanzate! 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 Ci attaccano! Ci attaccano! Benissimo, in marcia! Benissimo, in marcia! È lontano? E andiamo! In marcia! Avanti, continuiamo ad avanzare! Avanti, continuiamo ad avanzare! Continuiamo ad avanzare! Nemico in pista, pronti! Ci attaccano! Ci attaccano! Ci sparano! Andiamo! Yeah, Herr Comandant! Andiamo! Avanzate! Benissimo, in marcia! Mi hanno colpito! Attaccate! Benissimo, in marcia! Eliminateli! Sì, signore! Subito! In marcia! In marcia! Aiii! Subito! D'accordo! Motori in marcia! Motori in marcia! Distruggeteli! Sì, ok! Al suo servizio! Aspettiamo ordini! Sì, signore! Dai! E ancora! Veicolo pronto! Dai! Ci sparano! Sotto attacco! Sotto attacco! Non possiamo avanzare! D'accordo! Motori in marcia! Va bene! E andiamo! Qual è l'obiettivo, comandante? Scusi, verso il punto del percorso! Andiamo! E lontano? Benissimo, in marcia! E lontano? Ja, herr comandante! Ci attaccano! Attaccateli! Ci attaccano! Ja, herr comandante! E andiamo! Ci hanno colpito! Eccomi! Benissimo, in marcia! È lontano? Ci attaccano! Veicolo pronto! Andiamo! Subito! Ci stanno attaccando! Verso il punto del percorso! Era meglio che ci ripensi! Ci hanno colpito! Ci attaccano! Ci attaccano! Ci sparano! Sotto attacco! Sotto attacco! Sotto attacco! Sotto attacco! Andiamo Dai Scusi Dica E andiamo Sì signore Quali sono gli ordini? Verso il punto del percorso Sì signore In marcia In marcia In marcia In marcia In marcia In marcia Ci hanno colpito Si stanno attaccando Non capisco Sotto attacco Ci hanno colpito E andiamo Benissimo In marcia Avanti Continuiamo Ad avanzare Ci stanno attaccando In fretta In marcia In marcia In marcia In marcia Dica In marcia Andiamo In marcia 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 Benissimo, in marcia! Eccomi! Ci hanno colpito! Allarme! Abbiamo un obiettivo! Abbiamo un obiettivo! Eliminateli! Benissimo, in marcia! Mi hanno colpito! Ci stanno attaccando! Vediamo ordini! Ci tengono sotto tiro! Avanti! E ora? Che qualcuno mi aiuti! Ci hanno colpito! Caricate! Caricate! Benissimo, in marcia! Andiamo! Andiamo! Avanti! Continuiamo ad avanzare! Prendeteli! Prendeteli! Sotto attacco! Caricate! Ci hanno colpito! Aspettiamo ordini! Subito! Subito! Sì, signore! In fretta! Avanti! Continuiamo ad avanzare! Avanti! Continuiamo ad avanzare! Adolfa! Gotto! Eccomi! Aspettiamo ordini! Sissignore! Ci stanno attaccando! Fuoco! Dica! Attaccate! Aspettiamo ordini! Subito! Aspettiamo ordini! Aspettiamo ordini! Avanzate! In marcia! Avanzate! Andiamo! 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 Andiamo!